Ogni angolo del nostro pianeta è spiato dagli occhi indiscreti della tecnologia. Camere di sorveglianza, smartphone, dashcam, che registrano tutto, anche l'impossibile. Ma grazie a loro, oggi sappiamo che lì fuori c'è un mondo paranormale tutto da scoprire. Ed io, il boss del paranormal, sono pronto a farvi da guida. Seguitemi in un viaggio ai confini della realtà che comincia dalla mia centrale operativa, un albergo abbandonato.